Il Brini si è pronto ad affrontare l'impegnativa sfida di Casarano, il tecnico di Costanzo fa il punto sugli ultimi movimenti di mercato e guarda al futuro chiedendo alla sua squadra di iniziare domenica un nuovo campionato e rivolgendo un pensiero particolare alla tifoseria Bianca Azzurra. Pian piano l'intenzione è quella di bilanciare la squadra, che possa in prospettiva futura dare garanzie per quanto riguarda l'organico per fare quel famoso discorso di cui abbiamo parlato negli ultimi giorni, ossia fare un girone di ritorno straordinario. Del resto io parlavo con i ragazzi, in questo momento se ci fosse un campionato di 30 partite come spesso accade, domenica sarebbe la prima. Noi è come se avessimo dei punti di penalizzazione da scontare perché rispetto ad altre siamo in ritardo, ma pian piano vogliamo risalire la china. Fatemi ringraziare la tifoseria che domenica scorsa veramente ha dimostrato una grande maturità perché una squadra che sta in una posizione di classifica come la nostra, essere applaudita al termine dell'incontro dopo aver perso pure è sinonimo di maturità. Però mi sembra che la gente stia capendo che questa società vuole fare di tutto per risalire la china, senza frenesie, senza sbagliare, quindi con un po' di pazienza, però lo stia percependo e questo si trasmette alla squadra.